Perché quella donna si comporta così? Perché non ha rispetto per gli altri. Ma perché non ha rispetto per gli altri? Perché il rispetto per gli altri è evoluzione raggiunta che quella donna non ha ancora raggiunto. Allora che cosa succede? Succede la reazione degli altri che anche se non è violenta a livello fisico è altrettanto violenta a livello telepatico perché il pensiero è energia e il pensiero negativo è energia negativa che ritorna sulla persona che l'ha causata. Già ma nei? Vertel. Già? 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 Ahah! 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 Ahah!